La testa del cliente La testa del cliente La testa del cliente La testa del cliente Beate Alicia, lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive Ho detto di non toccarvi Ho capito che cerca di fermi la corte Ma non mi tocci Bisogna che tu impari a relazionarti con gli altri ospiti Chi è? Non è nuova, non è nuova Non è nuova Non è nuova Sentatevi di succedere in defunzione Un po' di cazzi tu hai mai Mi scusi a lei, la dottoressa? Beatrice, porca è! Sto socializzando qui! No, si sta impicciando. Avanti, per cortesia. Per esempio, come te la cava questa Morelli? A Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing. Praticamente l'ha espugnata. C'è un autobus! Venite! Lo aspettiamo stasera per piacere, è una bravata. No, la macchina, no! La macchina! Ma Tchaikovsky, eh? E qui si deve avvertire subito le forze dell'ordine. Siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di sì. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene.